Signore è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il tuo chitarrista Ciao eh, tutto bene? Un caldo boi Non è proprio fuori, vuole essere un occhio di colore per distruggersi Prato a dire, fatta di scena, dopo un'acqua colpita Quando un po' di luce vada, come aprire un frigo Alla fine quando sali sul palco poi ti passa anche un po' l'agitazione da prestazione Ti senti anche un po' come a casa Quindi poi una volta che prendi confidenza con quello che stai facendo Ti isoli e devi cercare solo di comunicare qualcosa alle persone che magari ti ascoltano anche per la prima volta Quindi devi dare tutto, devi dare il massimo Un po' come sarà qua sabato per me allo Sferisterio